Allora, la riperconvergenza di fatto è il nuovo paradigma del data center. È una tecnologia che permette di includere all'interno di un unico device, quindi di un server, tutte quelle che sono le tipiche componenti di un data center, quindi la parte computazionale, la parte di storage e la parte di networking. Tutto questo si realizza grazie a una tecnologia x86, quindi uno standard di mercato. I vantaggi per gli team manager sono evidenti in un contesto dove chiaramente sempre di più sono richieste competenze e queste naturalmente per vari motivi vengono sempre a mancare, anche perché la complessità dei data center non permette di star dietro in termini di conoscenza. E chiaramente anche da un punto di vista economico questa tecnologia permette di risparmiare molto l'infrastruttura perché appunto inglobando tutte le componenti il tutto risulta molto più economico e pratico.